e dunque il tanto atteso il tanto temuto gruppo della morte è arrivato bentornati sul canale bentornati sul canale dunque sono appena stati effettuati i sorteggi della fase a gironi della champions league e dobbiamo dire che all'interno è andata benissimo è andata benissimo se l'ambizione era quella di passare come l'anno scorso il turno ne avevamo parlato ieri e puntualmente i timori e i terrori come avevo sottolineato di tanti tifosi dell'inter si sono avverati si sono avverati perché perché l'inter ha pescato il bayern monaco in prima fascia il barcellona in seconda fascia poi in quarta fascia i cechi del victoria pelsen un sorteggio amarissimo per simone inzaghi crudele per certi versi perché a un certo punto dopo il dopo l'estrazione della juventus nel gruppo h aveva eliminato praticamente come le teste di serie real madrid manchester city e appunto il pari san germenegrof che era uscito con la juventus e l'inter sarebbe potuto capitare nel gruppo a b co d no per le noti per i noti paletti della uefa sempre molto attenta ai a chi ai broadcaster che detengono i diritti televisivi oltre ai paletti per la nazione oltre ai paletti per il ranking oltre vari paletti per le varie teste di serie ci sono anche se qualcuno non lo sa sono anche questi quest'ulteriore paletto che non consente a due squadre della stessa nazione di giocare nello stesso giorno quindi automaticamente se una delle due squadre viene sorteggiata nei primi quattro gruppi l'altra può essere sorteggiata solo nei secondi quattro gruppi quindi a b c o d oppure e f g o h dal momento in cui la juventus era uscita nel gruppo h l'inter sarebbe potuto uscire solo tra a b c o d quindi in gruppi dove c'erano ajax porto bayern appunto e francoforte quindi tre su quattro sarebbero stati accoppiamenti ottimi per l'inter ovviamente l'inter ha pescato l'un l'unico accoppiamento tra i quattro che era quello più detestabile anche perché nel frattempo con il bayern era uscito anche era uscito anche il barcellona quindi c'erano ajax e liverpool porto e atletico madrid bayern e barcellona e eintracht e tottenham tre su quattro erano diciamo non abbordabili nel senso di facili però giocabilissimi infatti il napoli ha beccato il gruppo a con ajax e liverpool ai quali poi però si è aggiunto i rangers come quarta fascia quindi occhio e l'inter invece è capitata proprio nel gruppo c proprio nelle ultime due estrazioni quando lo shakt era uscito nel gruppo nel gruppo f quindi alla fine si era capito che l'inter sarebbe capitata nel nel gruppo nel gruppo della morte nel gruppo della morte chiaramente c'è poco da dire su queste squadre il bayern lo conosciamo tutti ha preso mané ha perso levandoschi che è andato al barcellona quindi subito incrocio levandoschi bayern monaco e il barca diciavi si è si è rinnovato ha ancora qualche difficoltà soprattutto nel comparto difensivo davanti però ha una formazione che veramente fa spavento ma non è una novità no a parte l'anno scorso sono anni ormai che il barcellona in attacco può può rendere a chiunque la vita durissima chiaramente il bayern è un altro livello a mio modo di vedere poi c'è il barcellona l'inter secondo me però se la può giocare lo dico subito visto l'anno scorso il gruppo nel gruppo con il real madrid le partite che ha giocato con il real madrid la squadra in zaga visto poi l'ottavo con il liverpool secondo me l'inter può giocarsi tranquillamente le sue carte e anzi l'accoppiamento bayern e barcellona magari farà sì che entrambe perderanno qualche punto è chiaro che poi l'importante per l'inter sarà fare sei punti col victoria proprio per non lasciare nulla di intentato poi lì te la giochi te la giochi al massimo delle due possibilità com'è giusto che sia l'inter comunque ha giocatori di livello ha giocatori ormai di valore l'inter contro il liverpool al madrid ma la stessa italia di mancini ci ha insegnato comunque che che nulla ancora ce ne fosse bisogno nel calcio ma nulla è detto e quindi è un girone da un certo punto di vista crudele come ho detto però da un altro stimolante ragazzi perché queste sono le partite che si vogliono giocare questi sono gli avversari che si vogliono affrontare e questa è la c'è vera champions league uscire non me ne vogliano i tifosi della juventus col via real con leone con l'ajax col porto non è proprio il massimo magari dopo aver passeggiato nel girone meglio secondo me anche a costo di rimetterci lo ripeto qualche milione meglio affrontare subito squadre di rango meglio confrontarsi a questi livelli avere una rosa numerosa serve anche a questo quindi zero alibi si vada in campo e si giochi e si giochi questa coppa dei campioni come piace chiamarla a me per quanto riguarda le altre italiane velocemente a napoli l'abbiamo detto nel gruppo a con ajax liverpool e il rangers il milan testa di serie nel gruppo e col celsi poi però con salisburgo e dinamo zagrabria quindi diciamo un un girone un po come è capitato l'anno scorso all'inter la juventus non non benissimo secondo me la juventus con pari ranger man e soprattutto col benfica in terza fascia che secondo me era un po la mina vagante di quella fascia insieme all'inter al napoli in particolare e quarta poi ma cabbiai fa per il resto girone non facilissimo per il city che ha pescato civili a dortmund e copenhagen girone b e d secondo me quelli meno affascinanti nel b c'è porto a tradico madrid le ferkusen e bruges nel d invece eintracht di francoforte e tottenham di conte sport in lisbona e marsiglia un po più ha messo un po più di pepe il marsiglia in quarta fascia gruppo f tanto di cappello ai campioni in carica che oltre ad avere i galloni della squadra favorita in quanto diventrice diciamo che per alcuni è tornato ancora un po il fondo schiena di ancelotti no in realtà è il caso in questo caso tra virgolette gioco di parole il marito con lipsia shaktar donesk e celtic di glesgo quindi non propriamente un girone della morte queste sono queste sono le notizie che arrivano da istanbul questo è quanto ha regalato che hanno regalato yaya toure e hamid altintop forse un po col dente avvelenato per certi versi ricordando la famosa finale di di mona di di madrid contro appunto il baier monaco con l'inter di murigno ci scherziamo chiaramente però ecco qui è una champions che si preannuncia secondo me spettacolare per l'inter un cammino sicuramente in salita sicuramente complicatissimo però il calcio ripeto è bello anche per questo adesso siamo agosto comincerà subito quest'anno la champions subito nella prima settimana di di settembre quindi non ci sarà il solito spazio con le nazionali il solito no si va subito in campo quindi subito pronti e ci sarà da trottare come dicono come dicono quelli bravi simone inzaghi sicuramente non avrà non avrà paura già affrontato il baian con la lazio ricevendo una sonora lezione ma erano scontri diretti e credo che contro il barcelona sia per lui una un inedito è un inter che quindi arriva a giocarsi questa champions league giustamente date dalla terza fascia per quello che concerne questi dati questi parametri d'ingresso però molto io personalmente sinceramente è chiaro che uno aspetta magari una cosa un po più equilibrata però mai abbassare la testa e mai soprattutto fasciarsi la testa prima di essersi la lotta perché il calcio è bello anche se non soprattutto per queste per queste partite un saluto